facciamo un brindisi brindisi che bel pranzetto tutto buono ti è piaciuto amore? oh vieni dai grazie adesso cosa fai? non andare al lavoro non andare al cliente ti aiuto a spreparare ci vediamo stasera vado al lavoro adesso ok ho già anche in ritardo sempre così grazie che mi aiuti guardate c'è giusto quei due minuti niente io vado va bene ciao ciao un brindisi a noi eh si che bella mangiata io ho fatto una bella scorpacciata si io sono proprio pieno come un bue ah bene se avete finito di mangiare iniziate a spreparare grazie si si subito aspetta che guardo i messaggi cosa? 92 messaggi da leggere rispondo a tutti adesso ho battuto il record grande aspetta che rispondo al nemico Matteo che forse usciamo la settimana prossima eh oggi non posso uscire cavolo da fare i compiti se mi chiedevi un altro giorno anche a Teo vediamo Instagram invece ho messo l'altra tipa che mi piace si nuovo racconto facciamo un altro ho ancora 37 messaggi da leggere dai che rispondo io urco altre 90 notifiche devo andare a vedere subito allora ragazzi si adesso spepariamo eh è vero la giornalisa a che punto sei finito? nooo finito mi mancano ancora 30 fatture da inserire ah caspita e ciao guarda non dirmi niente a me che sono ancora qua a fare i vari conti quante offerte devi fare ancora? eh ancora una ventina più o meno di preventivi ok si fitta anche questa bisogna lavorare e produrre eh per pagare le bollette e le tasse già per fare le spese da fitto andiamo avanti anche meglio va fitto a proposito tra due giorni c'è la fitta bene tra sei giorni ci sono le bollette da pagare dalla 2A caro mio già andiamo avanti nooo oh Lisa ho quasi finito l'esercizio d'inglese tanto appunto sei buon punto bene ma che bravi che siete ragazzi state facendo i compiti eh si qua per portare a casa il 6 ciao ci sono un sacco lo so lo so è esperienza ragazzi dai io vado a fare le spese intanto ok vuoi continuare a fare i compiti e studiare ok a dopo ciao belli ciao Lucchino ciao 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 dopo dai Luca guardiamo Netflix vai su guardiamo un bel filmetto tac diciannove anni dura solo un'ora mezza tanto non è neanche tazzo pochissimo questa cosa termina oggi che Lisa ho un bel po' di fame quindi facciamo una bella merenda eh anch'io allora però una merenda genuina dai vero grazie allora abbiamo dei biscotti le mie parette preferite altre cose molto salutari giusto vero Lisa però non più di questo perché siamo a dieta andiamo vai peccato dai andiamo a far merenda Cici oh finalmente fa bene ma so che fame allora dai vediamo cosa c'è questo no questo questo eh sì magari quello là quello là ti piacerebbe ma scusalo ma scusalo perché siamo a dieta è vero quindi non mangiamo niente ma direi di no siamo a dieta altrimenti bucchiamo via un sacco di settimane di dieta hai ragione va bene beviamo l'acqua sì eccola e a me sono per te siamo a dieta Cici facciamo metà per uno e quindi dobbiamo resistere va bene va bene siiii guarda quant'era che ha fatto l'ultima foto hai visto bello sono tantissimi eh eh sì gli devo mettere un post ah vai vai camicia in selfie vai prendici vai subito con camera facciamo con io dopo te lo passo con l'aereotrop ok aspetta che la luce non è bene non è sabina a fuoco e via ok vediamo cosa è la vita ah guarda eh bellissimi siamo va che belli adesso hashtag like hashtag bellissimi hashtag fratelli cioè Alisa guarda già che ci sono faccio una bella storia con te così poi ti taggo ok 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 perfetto è venuta guarda come è venuta ecco bella bellissima io adesso invece vado a mettere il filtro Valencia è bellissimo già è vero ho pubblicato anche io adesso ho pubblicato troppo forte ma vuoi magari troppo sopra pulire dai ti do lo straccetto grazie mille pulisci pure vediamo qua è sporchissimo guarda come è bello pulito eh anche qua dietro chissà che foto che fa adesso eh dai facciamoci quella cosa che fanno i giovani una foto no quello che fanno loro lì il il filmato il setting ah il setting si si dai passiamolo dai vai sulla fotocamera non l'ho mai tutto trovato potremmo farlo adesso no dovrebbe essere questo il codice aspetta aspetta il codice foto foto eccolo qua ho trovato ok ma ci sono solo foto guarda ho trovato ho trovato fotocamera fotocamera ok dai fammi il selfie il setting il setting fammelo vai mettiti qua anzi qui davanti al quadro mi piace dai aspetta vai ti faccio il setting ancora uno ancora il setting bello ti faccio il setting vai dai che bello il setting sono troppo forti i giorni da farsi il setting ok perfetto ancora uno stiamo usciti ok aspetta eh bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollice su eh agli adulti agli adolescenti agli adulti agli adolescenti agli adolescenti adoresscrivete qua su tutti i commenti se preferite gli adolescenti mi raccomando seguiteci sui nostri profili instagram che troverete qua su in descrizione Marco Punta Zannotti Luca Steam Web e Cecilia Fashion Up yeah e tu e noi ragazzi ci invitiamo di un altro video eee eee chavelli